La Proloco accende la musica all'Agrigento e lo fa aderendo ad un'iniziativa che da 25 anni incendia di musica tutta l'Italia e l'Europa intera, la festa della musica. Domani 21 giugno dalle venti in poi a Piazza Pirandello nel centro storico di Agrigento la città pulserà e si illuminerà di note, di suoni, di musica dal soul al jazz, dal funky al rock, all'hard rock, al musical, al tip tap tutti i generi musicali con band, solisti, gruppi di musical, artisti che vengono dall'Agrigentino ma anche da tutta la Sicilia e si riuniscono qui sul palco di Agrigento per regalare alla città un mega concerto meraviglioso che sarà presentato da una tizia che si chiama Rianna Vassallo, sarei io, e da Emanuele D'Urso. La Proloco regala alla città la festa della musica e allora che cosa avete da fare domani sera, 21 giugno, dalle venti in poi, se non venire a Piazza Pirandello. La Proloco accende la musica l'Agrigento.